Buongiorno a tutti e bentrovati nello spazio agenda dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. È un fine settimana ricco di appuntamenti ecclesiali e culturali quello che si apre. Si concentrano infatti alcuni degli eventi del Festival Biblico edizione 2023 delle sedi periferiche, ossia nei comuni della provincia di Padova. Ma andiamo con ordine e vediamo subito gli appuntamenti di oggi venerdì 14 aprile 2023. Due importanti appuntamenti con il Vescovo Claudio alle ore 16 nella Scuola della Carità in via San Francesco a Padova. Il Vescovo sarà protagonista di un incontro organizzato e promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice sul tema 60 anni dalla pace Minterris, le religioni al servizio della fraternità. L'enciclica di Giovanni XXIII sulla pace fra le genti è stata firmata infatti l'11 aprile 1963. Si parlerà di questo insieme al Vescovo Claudio, all'imam del Veneto Camella Yashì e al rabbino Shalom Baobut. Invece in serata alle 20.45 nella multisala MIPX a Padova, il Vescovo Claudio interverrà all'incontro promosso dal comune di Padova dal titolo La pace è impossibile, è l'unica possibile. Accanto a lui ci sarà anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, Marco Mascia del centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università di Padova, un rappresentante della CGL, Flavio Lotti del coordinamento nazionale enti locali per la pace e diritti umani, Rossella Miccia presidente di Emergency Onlus, Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio. Introduce l'assessora Francesca Benciolini. E per finire a Villa Immacolata, venerdì 14 alle ore 21 inizia il secondo step del percorso nutrire la vita interiore della coppia dedicata appunto agli sposi. Accompagnano i coniugi Alessandro e Deborah Marchetti, Maria Elisa Baccalini e Don Federico Giacomini. È il primo di cinque incontri, le altre date saranno il 21 e il 28 aprile, il 5 maggio e domenica 14 maggio. Torno domani mattina al centro universitario di Padova alle ore 10 l'appuntamento con le questioni filosofiche che quest'anno hanno come tema l'inganno. In questa occasione Martino della Valle affronterà il tema filosofia dei mulini a vento, Don Quixote e l'inganno della letteratura. Nel pomeriggio di sabato alle 15.30 al Collegio Marianum il convegno sul sacrificio di Isacco promosso dall'Associazione Bibbia Aperta con la partecipazione del biblista ed eseggeta Renato De Zan. Tratterà il tema Il mio corpo dato per voi, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Il convegno era in programma il 13 aprile, è stato spostato appunto a sabato 15. E sembra sabato pomeriggio alle ore 15.30 a Villa Immacolata l'appuntamento con alle prese con il cambiamento dei figli fino ai 13 anni, trasformazione delle relazioni in famiglia. Accompagnano i coniugi Daniela Pipinato, psicologa clinica pedagogista e mediatore familiare e Guido Marangoni, ingegnere informatico e scrittore, insieme a loro Don Federico Giacomini. Ma sabato 15 aprile si svolge anche il primo incontro della prima sessione del Sinodo diocesano. Dopo il lavoro svolto dalle commissioni sinodali in questi mesi, ora si riunisce l'assemblea sinodale e si ritrova per lavorare sul secondo strumento di lavoro. Invece al centro parrocchiale della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, alla Guizza, dalle 16 alle 21 di sabato 15 aprile, cena condivisa compresa, ci sarà l'incontro di spiritualità e fraternità per famiglie affidatarie e adottive. A tema le motivazioni di una scelta. E sempre sabato 15 aprile alle 16 al Cinema Marconi di Piove di Sacco viene proposto dalla compagnia teatrale Barabeau Teatro lo spettacolo Profumo di pane, la storia di Ruth. È uno degli appuntamenti appunto del Festival Biblico 2023 delle sedi provinciali, come dicevamo all'inizio di questa agenda. Mentre in serata, ma al Cinema Corallo di Monseli, c'è un doppio appuntamento sempre del Festival Biblico. Il primo alle ore 20 e 30 con l'artista Stefano Riolon che proporrà una creazione artistica sul tema La creazione possibile tratta da Genesi, dal caos al cosmo tra linee e colori. E a seguire alle 21 e 30 Caino, sempre dei racconti di Genesi, quando le relazioni si rompono, proposto dall'associazione culturale Zagreo, aiuterà a riflettere su cosa resta dopo il male. Sempre tra gli appuntamenti del Festival Biblico, ma ci spostiamo a Conselve, nella Sala Dante, il dialogo sul tema L'esperienza di Babele e il cammino sinodale. Intervengono la teologa e biblista croata Bruna Velcic e Don Mario Geric, rettore del Seminario Teologico di Fiume e vicario episcopale per la pastorale Modera Don Francesco d'Alsasso. Sempre sabato 15 aprile segnaliamo l'appuntamento al servizio delle Pietre Vive in Terra Santa. È il tema di una mostra che viene proposta nella chiesa di San Francesco. Ci sarà alle ore 19 la Santa Messa, mentre alle ore 20 e 15 l'inaugurazione seguita da una meditazione musicale con brani di Lorenzo Perosi. L'iniziativa è dell'ordine e questa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Levanta te, c'è fretta nell'aria. In portoghese levanta te significa alzati ed è il titolo del Missio Meeting Giovani che si terrà domenica 16 aprile al Palazzetto dello Sport di Ronchi di Casal Serugo dalle 9.30 alle 17, promosso dal Centro Missionario di Ocesano in collaborazione con la pastorale dei Giovani, gli istituti missionari e QAM Medici con l'Africa. È un invito rivolto in particolare ovviamente ai giovani, giunto alla sua sesta edizione, un'occasione per far emergere e condividere la bellezza della missione come scambio di doni e ricchezze che riempie di senso la vita. Invece al mattino di domenica 16 aprile alle 11.30 in cattedrale l'appuntamento è con tutti i neofiti, ossia quanti sono diventati cristiani nella veglia pasquale. Si terrà il rito di deposizione delle albe. Ma domenica 16 aprile inizia anche una nuova tappa della visita pastorale del Vescovo Claudio nel territorio della Diocesi, in questo caso sarà nella zona bellunese e più precisamente visiterà le parrocchie dell'unità pastorale di Conca del Piave. Domenica 16 celebrerà la Santa Messa alle 9.30 a Schievenin e quindi alle 11.15 a Campo e nel pomeriggio l'incontro con i referenti di ambito Annuncio Carità e Liturgia a Quero. Le giovani coppie invece si trovano alle ore 15 di domenica 16 aprile nel centro parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino per gli incontri promossi dalla pastorale della famiglia. Ci spostiamo poi all'Opera della Providenza dove alle 15 è in programma un concerto lirico di beneficenza in onore del tenore Renato Zuin nel quarto anniversario della sua scomparsa. Per gli appuntamenti del Festival Biblico alle ore 20.30 di domenica 16 aprile ci sarà il reading musicale Eden al Cinema Corallo di Monselice. Andiamo alla prossima settimana che si apre lunedì 17 aprile con la sesta tappa della Scuola della Parola alle ore 20.30 a Casa Santa Andrea di Sarmeola di Rubano promossa dalla pastorale dei giovani, pastorale delle vocazioni e Casa Santa Andrea. Mentre martedì 18 aprile alle ore 18.30 al centro universitario c'è l'appuntamento con gli incontri culturali del martedì sul tema Chiunque Tuesday for Future 2022-2023. In questo incontro dal titolo fondata sul lavoro sarà ospite Christian Ferrari, segretario generale CGL Veneto e ci sarà la testimonianza della fabbrica lenta di Bonotto. Il 19 aprile inizia un nuovo appuntamento con Il Mese, la fraternità per giovani proposta dalla pastorale dei giovani che si svolgerà a Casa Santa Andrea fino al 17 maggio, mentre il vescovo Claudio sarà in visita al mattino alle case di riposo di Alano e di Quero nel contesto della visita pastorale e nel pomeriggio incontrerà gli amministratori locali e poi consigli pastorali e di gestione economica di Quero. Sempre in serata di mercoledì 19 aprile a Villa Immacolata di Torreglia alle ore 21, ho tanto desiderato mistagogia della liturgia eucaristica. È l'inizio di un itinerario in cinque incontri che prevede di entrare nei riti della messa. Accompagna Don Federico Giacomini, direttore di Villa Immacolata e vice direttore della pastorale dei giovani. E sempre alle 21 da Villa Immacolata c'è l'appuntamento con l'elezio in Zoom sul Vangelo della domenica successiva. Giovedì 20 aprile ricordiamo la celebrazione eucaristica con commento della parola di Dio alle ore 19 nella cripta del centro universitario, appuntamento settimanale per i giovani universitari, mentre la fondazione Bortignon venerdì 21 aprile alle ore 16 nella biblioteca del centro Filippo Franceschi propone l'incontro dal titolo Costruire la comunità scolastica. Sono invitati insegnanti, dirigenti scolastici, operatori della scuola statale e paritaria, nonché i genitori e cittadini interessati alle tematiche educative. La partecipazione è libera e gratuita. E con questo è tutto e con voi ci vediamo la settimana prossima.